Eccoci qua cari amici, eccoci qua cari amici, qua la pallio cari amici, pensate voi, è nata nell'agosto dell'anno 2000, tra poco ha 24 anni e qua siamo in via Vincenzo Minolia, martire antifascista e laggiù c'è Volta Mantovana, vedete? Questa zona però mica c'era quando io sono nato è nel febbraio del 1940, via Vincenzo Minolia, adesso è tutta bella asfaltata ma non c'era questa parte, via Vincenzo Minolia cominciava laggiù, il quartiere Sassello, Sassello, Sassi, Sassi, Sassello, Sassello, quartiere dei poveri cari amici, qua nascevano soltanto i manovali, noi muratori manovali e i contadini, i contadini e qua, qua adesso vedete, è tutto asfaltato ma qua c'erano le siepi, le siepi e c'erano le sorgenti dell'acqua, dell'acqua, l'acqua, uno poteva bere l'acqua, si chinava, raccoglieva l'acqua nel palmo della mano capito? E adesso provaci tu a bere l'acqua che è sgorgata a terreno, provaci, provaci ecco qua, e laggiù c'è Volta Mantovana, vedete? C'è la torre di Matilde di Canossa, c'è la chiesa di Santa Maria Maddalena, c'è Maddalena Maria di Magdalae, ecco qua cari amici, ecco qua, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.